ci troviamo con non dico un vecchio amico perché è tuttora un nostro amico dominic vindic è la tua prima anter selva non da atleta quindi dimmi un po come la stai vivendo perché sei sempre qui comunque in questi giorni sì no per me è veramente speciale essere qui me la godo proprio e anche vedere tutti i vecchi amici tutta la gente e comunque è ancora la mia squadra no è veramente anche emozionale ma un bello ma ti è venuto in questi giorni a un certo punto dico ma quasi quasi prendo la carabina e mi butto lì in mezzo anch'io no dico mi piace l'ambiente mi piace la gente parlare con tutti però sinceramente le gare lì ho chiuso bene sono convinto e no no sono tranquillo com'è viverla da fuori cioè vivere l'ambiente esterno perché comunque ovviamente voi d'atleta d'atleti avete vissuto per anni no anche un po in una bolla ecco com'è invece vivere tutto l'ambiente come lo vivono i tifosi ma infatti diciamo come dice te ho vissuto sempre un po nella mia bolla anche per stare tranquillo ma ovviamente anche la fidanzata così mi raccontava poi un po le storie e così e adesso riesco a viverli anch'io quindi no è bello c'è veramente un evento speciale soprattutto per i spettatori è tutto lì c'è c'è una bella festa c'è si diverte quindi è ottimo se ti abbiamo visto tanta gente che ti sta affermando ecco è bello vedere ancora così tanto affetto nei tuoi confronti immagino che lo apprezzi tanto se no dai è sempre bello poi diciamo io lo sento come che la gente apprezza cosa ha fatto quindi è bello no sì sono come si dice mi ringrazio anche io a loro perché comunque ti tornano le emozioni se adesso hai cominciato da allenatore mi spieghi mi racconti un po come il beatron ora quello stai vivendo anche da tifoso no invece com'è la beatron da allenatore dall'altra parte no anche lì diciamo sto imparando tanto sì devo ovviamente imparare tanto poi io cerco di dare le mie esperienze a giovani e vedo un ottimo movimento in tutta l'italia diciamo ormai si allenano anche tutti i ciclè molto bene su un alto livello e vedo che abbiamo un futuro con tanti grandi atleti infatti l'ultima volta che volevo chiederti per tanti anni eravate voi no il gruppo storico della nazionale tu luchi la stessa d'oro poi anche la stessa lisa la fedi insomma adesso vedi anche tanti tanti giovani anche nelle categorie minori raggiungono risultati vediamo anche bei risultati nei bucappi insomma pensi che il beatron italiano sia in salute sì assolutamente sì abbiamo veramente un gran movimento ormai crescono dappertutto i poligoni stadi piste schirol che è ottimo e no diciamo una bella dinamica quello che sta succedendo e infatti così ovviamente entrano anche più talenti se ti fa piacere vedere Tommaso Giacomella già essersi inserito così bene lì davanti e cosa consiglia a a di Dobbiona no beh diciamo Giacomella ha fatto veramente un passo enorme quest'anno e sono contento per lui e li vedo proprio anche serio tranquillo secondo me è cresciuto tanto anche di mentalità e sì anche a Dido io gli dico che sono ancora giovani e devono stare tranquilli e fare il loro lavoro perché sanno benissimo che possono arrivare davanti perché sugli sci stanno andando veramente forti e poi manca poco alla fine bisogna stare tranquilli e continuare mai mai molare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti